Dei tamponi annunciati non ve ne traccia. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale un'interpellanza del consigliere Blasioli pone l'accento sul macchinario in dotazione alla ASL di Pescara che avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione di circa 2400 test al giorno, numero questo che non è stato ancora raggiunto. È stata creata anche una grande attesa rispetto a questo macchinario, questo macchinario dei tamponi che si chiama Workstation che è stato acquistato da una ditta Open Tron con una delibera dell'ASL, naturalmente la 392, del 2 aprile 2020. 120 mila euro, tanto è stato il costo diciamo di questa macchina che è arrivata il 21 di maggio del 2020. Secondo il bollettino della regione in Abruzzo ogni giorno si seguono mediamente meno di mille test, domenica addirittura ne sono stati solo 125. La regione ha stipulato anche due convenzioni con la Pescara Calcio e la Casa di Cura Villa Serena, i cui tamponi però non vengono inseriti nel conteggio giornaliero. Come mai al di là degli annunci e dei soldi spesi di questi tamponi non ve ne traccia? L'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri risponde che il ritardo è dovuto al mancato arrivo in Italia a causa della pandemia degli ingegneri americani che avrebbero dovuto mettere in funzione il macchinario e che ora il numero dei tamponi analizzati non è aumentato per problemi che riguardano il mercato globale dei reagenti. La mancata crescita del numero dei tamponi effettuate non è assolutamente dovuta a una carenza dell'approvvigionamento dei sistemi analitici necessari e nemmeno alla carenza del personale sanitario interno il quale ad oggi risulta essere congruo e in grado di sostenere il carico lavorativi. Il numero degli esami è strettamente correlato all'andamento dei contagi sul territorio di riferimento alla situazione epidemica al momento. Si aggiunge che qualora vi fosse la necessità di dover effettuare eventuali screening preventivi massivi sul territorio il laboratorio presente all'interno della UOC di microbiologia è in grado di procedere con la massima efficienza e produttività. Insomma i test non vengono fatti perché la situazione epidemiologica non li richiede. Sarebbe però da domandarsi se qualora venissero fatti test a tappeto, come ha auspicato da tutti ad inizio emergenza, non verrebbero alla luce casi di contagio che porterebbero a un quadro sanitario molto più preoccupante di come attualmente rappresentato. Vi è poi la questione dei laboratori aquilani di Dante Labs che avrebbero dovuto processare entro fine giugno addirittura 40.000 test al giorno. L'iter per l'accordo tra Dante Labs e la regione attivo d'aprile ma dei risultati non ancora vi è traccia. E questo sebbene gli esperti siano concordi sul fatto che fare il maggior numero possibile di test sia una valida arma per combattere il covid soprattutto per rintracciare quella vasta fetta di asintomatici. Ad oggi l'esiguo numero di test a disposizione viene indirizzato prioritariamente ad alcune categorie come quella dei soggetti più a rischio o del personale sanitario.